Arroci, educatori degli oratori della città di Milano, ma sono qui con noi in questo breve momento di presentazione di questa ricerca anche tante istituzioni amiche dell'oratorio che in tempi e modi diversi sono vicine al mondo dell'oratorio e sostengono l'attività degli oratori e spesso questa cosa non si vede quando si è sul campo. E quindi questo è anche un momento bello perché ci rendiamo conto, penso a chi di noi è qui e ascolta questa presentazione, ci si rende conto anche di quante realtà del nostro territorio milanese e lombardo credono nell'oratorio, sostengono l'oratorio, hanno uno sguardo di attenzione anche molto concreto, molto operativo. Questo è molto bello, questo è molto importante e in alcune occasioni è anche giusto che questa cosa assuma un'evidenza perché credo che faccia bene a tutti. Serve anche per dirci grazie, Don Bosco venne a Milano proprio per confrontarsi anche con l'esperienza dell'oratorio milanese perché come sappiamo bene Milano è la città che ha visto nascere gli oratori quindi le prime esperienze di oratorio sono addirittura di 500 anni fa. Questa ricerca vuole ripuntare l'attenzione proprio sugli oratori della città di Milano e nasce come intenzione da parte della FOM, della Fondazione Oratori Milanesi proprio in un momento particolare della vita della città, l'uscita dal Covid sicuramente quindi come un desiderio di conoscere anche la situazione degli adolescenti a Milano come stavano vivendo, come stanno vivendo, di capire come i nostri oratori sono stati in grado in questo momento difficile di mantenere una relazione significativa con loro e nello stesso tempo è stato anche il periodo questo di un intervento importante diciamo sull'organizzazione delle parrocchie della città, sono stati rivisti i decanati, sono stati riconfigurati e l'arcivescovo ha avviato la visita pastorale alla città di Milano quindi tutti questi elementi ci hanno convinto a dire bene facciamo un lavoro di studio questo lavoro l'abbiamo deciso anche di condividerlo con alcuni amici e quindi l'abbiamo condiviso con la Fondazione Ambrosianeum che ha accettato la nostra proposta e la Fondazione Ambrosianeum poi ci verrà detto in modo più preciso con un team di docenti della Cattolica, della Bicocca e del Politecnico ha svolto questo lavoro quindi abbiamo la possibilità di unire insieme sguardi diversi sugli oratori della città di Milano ma nello stesso tempo mi preme dire che la ricerca non si è concentrata soltanto sull'attività degli oratori ma in modo direi più specifico ha cercato di studiare il contesto in cui gli oratori si trovano ad operare quindi non abbiamo fatto l'analisi, perdonatemi, del gruppo di catechismo, delle medie, degli adolescenti, delle gite, delle vacanze, importantissimo ma ci siamo soprattutto soffermati a ragionare su quale contesto gli oratori abitano nei loro quartieri, nei loro decanati, in quella parte di città che sta cambiando in un modo significativo la prima cosa che mi viene da dire di fronte a questa ricerca promossa dalla FOM realizzata poi da tanti esperti che sono stati citati adesso a Don Stefano è questa che la FOM pensa, cioè la FOM non si limita a organizzare l'oratorio estivo, a coniare il motto dell'oratorio, a vendere le magliette anche queste sono cose decisamente importanti, la FOM pensa e aiuta a pensare aiuta a pensare l'oratorio e le proposte educative che vi si possono trovare a pensare l'oratorio dentro la rete di relazioni complesse della grande città perché l'oratorio va pensato non possiamo immaginare di svolgere la missione educativa in oratorio senza comprendere come l'oratorio stia cambiando, sia già cambiato perché è cambiata la città e perché è cambiato il rapporto dell'oratorio con la città nell'introduzione Don Stefano ricorda come gli oratori siano sentinelle e custodi del territorio la parte della comunità cristiana più esposta alla relazione con il territorio gli oratori sono, questa immagine mi pare molto efficace, il sensore della comunità cristiana per questo è importante appunto pensare l'oratorio in connessione con la città, col quartiere, con il territorio del decanato e tuttavia, lo dico in maniera forse un po' paradossale mi viene anche da dire, l'oratorio non va pensato troppo nel senso che ne vanno preservate le caratteristiche di gratuità di spontaneità del ritrovarsi di imprevedibilità delle relazioni che vi si possono incontrare e coltivare mi ha colpito un passaggio della ricerca dove si dice che se da una parte sicuramente l'oratorio deve e i suoi educatori hanno l'obbligo di sviluppare competenze di avvalersi di persone esperte per affrontare le tante fragilità dei ragazzi di oggi dall'altra parte però si osserva che nella convivialità oratoriana le fragilità in un certo senso si attenuano vengono meno sottolineate quindi generano meno ansia rispetto per esempio alla scuola dove c'è più verifica, valutazione, classificazione delle fragilità stesse insomma l'oratorio può far sì che i ragazzi fragili siano un po' più uguali agli altri ancora vorrei sottolineare questa ricerca che direi interroga la chiesa anzitutto in particolare riguardo alla sfida di essere come oratori luoghi e comunità accoglienti e con questa espressione che ho imparato e che viene ripetuta spesso a bassa soglia cioè aperti a tutti e insieme la sfida di realizzare questo è insieme di saper fare una proposta cristiana seria non timida non diluita che chiede impegno, partecipazione, confronto ecco come viene detto in modo molto sintetico e chiaro identità cristiana e apertura multiculturale possono anzi devono stare insieme e progredire insieme e infine l'oratorio serve la città è utile alla città come viene detto nella ricerca i suoi cortili possono essere realmente laboratori di convivenza interetnica e di integrazione socio-culturale veri e propri incubatori di cittadinanza sembra di sentire una versione aggiornata della grande intuizione di San Giovanni Bosco di cui oggi appunto facciamo memoria il quale ebbe il coraggio e l'audacia di portare avanti il progetto di formare nell'oratorio come sappiamo buoni cristiani e onesti cittadini e il segreto forse come si dice ancora tra le pagine la ricerca è quello di riuscire a far incontrare la vita di tutti i giorni con il Vangelo grazie grazie Don Giuseppe buongiorno a tutti, buongiorno a tutte intanto grazie, grazie per l'invito e grazie in realtà per la consuetudine al dialogo che abbiamo costruito nel tempo e che mi piace mettere come preambolo di questo breve intervento perché la nostra è una città abituata al dialogo a tutti i livelli e evidentemente la capacità di conoscersi, di riconoscersi reciprocamente passa attraverso il dialogo fra le persone e non solamente fra le istituzioni certamente è importante, noi abbiamo avviato come amministrazione con tutti i canali necessari con gli uffici, con ciò che fa della nostra quotidianità anche la risposta a quello che siamo chiamati a fare ma c'è anche una consuetudine umana e una dimensione personale che io credo sia importante riconoscere e anche valorizzare perché esattamente per quella specificità a cui ci chiamava Don Giuseppe quella capacità di non essere solo luogo e procedure, burocrazia e attività ma anche luogo dell'incontro e della relazione e io credo che questo riconoscimento fra la politica, l'amministrazione della nostra città e una dimensione di comunità e una promozione di crescita all'interno dei percorsi negli oratori e nei contesti educativi che a partire dagli oratori possono procedere ecco io credo che sia una premessa importante in seconda battuta credo che sia ulteriormente importante sottolineare come c'è stata anche una condivisione di un approccio che ha bisogno di essere insieme umano che guardi all'eccezionalità della dimensione educativa che si attua all'interno degli oratori di quel bisogno di gratuità significativo e quindi di quella chiamata dei cristiani adulti ad esserci nella dimensione del servizio e che quindi non spetta a me come amministrazione richiamare ma che so essere una attenzione importante invece di chi negli oratori lavora, cresce e si spende e dall'altra parte però quel riconoscimento anche nel dialogo istituzionale di riuscire a ricomprendere tutto il lavoro che viene fatto perché possa avere anche la considerazione che merita all'interno dei percorsi anche di attribuzioni di fondi come ci diceva prima l'assessore Magoni come ci sono molte esperienze di coprogettazione che oggi diventano cuore pulsante anche della modalità con le quali le amministrazioni poi costruiscono percorsi di promozione, di attività, di welfare e quindi credo che in questo dialogo in questo reciproco riconoscersi, questa alleanza ci debba essere molto che ci accomuna e poi ovviamente un'attenzione, un'attività a tutta la specificità che ciascuno poi fa crescere quindi io non posso presupporre che siccome avete tanti volontari potete fare delle cose in maniera gratuita e io ne posso come dire usufruire for free e dall'altra parte però so che una parte importante del lavoro che fate è animato e ha una qualità di attenzione educativa proprio per il fatto di avere un così profondo radicamento in una scelta educativa che va anche a integrarsi con le professioni questa premessa mi sembra importante perché il riconoscersi ha bisogno di come dire in qualche modo sottolineare tutto ciò che è terreno comune e tutto ciò che è giusto invece che sia un'identità che ci caratterizza il secondo pensiero che vorrei condividere riguarda lo strumento che la FOM ha scelto e quindi questa ricerca e quindi un approccio anche scientifico sistematico, sistemico con dei professionisti che all'interno delle università ci hanno già abituato diciamo a uno sguardo saggio e guardo tutte le persone che anche fra di voi hanno contribuito a un pezzetto di questa ricerca perché certamente quella terza missione delle università che spesso si esplica anche in questi strumenti ci aiuta a fare meglio il nostro mestiere a fare meglio anche quell'individuazione di contesto quel riconoscimento reciproco a capire cosa siamo cosa siamo noi amministrazioni nei confronti degli oratori distribuiti che cosa stanno facendo gli oratori quali bisogni emergono specificamente dalla esperienza degli oratori e viceversa non è un caso che stiamo parlando di urbanistica e l'urbanistica ovviamente ha un tema come lo dichiamo io che non sono urbanista ha un tema hardware i luoghi, i contesti, gli spazi, gli edifici i pieni, i vuoti, il verde, le strade, la mobilità e ha tutta una dimensione umana e di comunità e quindi c'è bisogno anche di leggere tutto ciò che accade attraverso la luce delle persone delle comunità che rendono una città non soltanto una costruzione di Lego che potenzialmente funziona benissimo qualche tempo fa sono stata a visitare un cantiere in via diciamo di rapida evoluzione di trasformazione mentre mi spiegavano come avrebbero disposto mi sono avvoltato e gli ho detto dove sta l'oratorio qua? qual è il più vicino? perché evidentemente noi che andiamo progettando i servizi all'interno degli spazi in trasformazione quelle che sono le esperienze abbiamo bisogno intanto di dialogare con la città che già c'è ma soprattutto di dialogare con le comunità che già ci sono e lavorano e qui c'è il secondo passaggio che credo che sia importante non soltanto un riconoscimento di una presenza come se foste un progetto interessante che è in città ma come un soggetto gli anglosassoni vi chiamerebbero stakeholder ma certamente voi siete dei portatori non soltanto di interesse ma siete portatori di un pezzetto di città anche perché spesso ci rivolgiamo giustamente lo facciamo noi che ci occupiamo di giovani d'educazione pensando ai ragazzi che vivono negli oratori ma gli oratori sono anche un meraviglioso luogo in cui i ragazzi osservano l'esemplarità degli adulti ed è quindi uno di quei luoghi così preziosi in questo tempo in cui agli adulti è data la possibilità di fare educazione vivendo insieme ai più giovani e riuscendo a mostrare non soltanto raccontando che cos'è la vita ma vivendola insieme a loro che cosa vuol dire diventare grandi e se ci pensiamo in questo post pandemico io credo che questo sia uno dei tesori più significativi sui quali dobbiamo far crescere tutte le esperienze educative oggi lo posso dire qui con voi nel contesto oratoriale lo faccio spesso quando ci occupiamo per esempio di scuola perché anche la scuola si sta chiedendo come affrontare questo momento di post pandemia e io credo che in questo rapporto che abbiamo bisogno di riallacciare fra gli adolescenti e i ragazzi più piccoli e il mondo degli adulti ci sia una grande occasione e tantissimi strumenti formali e informali che noi abbiamo bisogno di far crescere chiamando un po' tutti gli adulti a responsabilità e a corresponsabilità credo che questa sia una via un po' tracciata e un po' forse innuce quello che era l'idea stessa dell'oratorio di non lasciare i ragazzi da soli di fare in modo che anche nel cambiamento e lo vediamo no? il cambiamento della società si diceva anche prima nel commento si riflette negli oratori e gli oratori sono una cartina di tornasole di quello che succede nei diversi quartieri non è un caso che ci sia una territorialità così importante quindi la prossimità diventa un elemento qualificante anche della proposta e allo stesso tempo io credo la promozione di quella cooperazione di quella collaborazione che ha bisogno di luoghi di scambio e qui mi fermo rimandando a una serie di altre occasioni a partire da questa ricerca che ci consegna una fotografia io credo già alcune piste di lavoro qui sono presenti per esempio molti amministratori dei diversi municipi della città nella dimensione di collaborazione e di sussidiarietà che abbiamo avviato c'è spazio sia in orizzontale che in verticale di ragionare insieme io credo che sia il 2024 l'anno che ci riapre alle nuove progettualità e alle nuove progettazioni nel rispetto di quelle differenze che fanno la vostra peculiarità ma cercando il più possibile di portarvi in partita laddove tutto quello che viene messo a disposizione del welfare della coesione sociale dei percorsi di inclusione per i ragazzi possa avere gli oratori come soggetti nei quali non soltanto ci si appoggia ma si può reciprocamente compartecipare a delle progettualità attive credo che sia una bella sfida e devo dire che questo 2024 personalmente lo sto vivendo davvero come un anno di riapertura e di rinascita e spero che l'ottimismo possa essere contagioso grazie la ricerca la ricerca è una ricerca esplorativa una ricerca interdisciplinare e multimetodo che è interdisciplinare lo veniva già sottolineato in apertura abbiamo messo in dialogo diverse discipline la sociologia la pedagogia la demografia l'urbanistica e consentitemi un breve veloce ringraziamento all'equipe di ricerca che è un'equipe composita appunto oltre alla collega Rignolo che già citavo prima a cui darò presto la parola Fabrizio Delfini Mattia Lamberti Alessio Menone Marta Viglioni hanno composto questa equipe di ricerca consentitemi anche di ringraziare i facilitatori dei dodici decanati adesso cito Ottavio Pirovano per tutti non faccio l'elenco dei nomi ma davvero il ringraziamento va a ciascuno di loro perché ci hanno aiutato a entrare nei territori e negli oratori e poi voglio ringraziare anche le nostre esperte colleghe dell'università anche di altre università Maddalena Colombo, Elena Granata, Milena Santerini che come vedrete nella seconda parte del volume aprono delle piste di riflessione e di rilancio al futuro a partire dai risultati della ricerca dicevo una ricerca interdisciplinare dunque e multimetodo che ha avuto diversi obiettivi che ha preso le mosse da alcune domande di fondo si è chiesta come sono distribuite innanzitutto le proposte educative e ricreative rivolte ai preadolescenti e agli adolescenti e ai giovani nella città di Milano e qual è il posto degli oratori dentro a questo insieme di proposte come si situa l'oratorio nel contesto territoriale dei dodici decanati della zona pastorale 1 e quali caratteristiche hanno questi contesti e poi avendo come punto privilegiato di osservazione proprio gli oratori quindi con uno sguardo interno siamo andati a chiederci come gli oratori leggono e rispondono ai bisogni dei giovani tra gli 11 e i 19 anni quali bisogni questi giovani portano dentro l'oratorio e come insieme a educatori e operatori pastorali costruiscono anche risposte ai loro bisogni una ricerca dicevo multimetodo ora non mi soffermo ma che ha messo insieme tecniche di tipo quantitativo qualitativo, focus group un world cafe molto partecipato di cui siamo molto anche grati ai partecipanti interviste in profondità insomma uno spettro di tecniche di ricerca per cercare di rispondere a queste diverse domande uno degli elementi più caratterizzanti credo anche più interessanti di questa ricerca riguarda proprio quell'esercizio di contestualizzazione che abbiamo provato a fare di mappatura delle proposte educative e di contestualizzazione delle proposte nei territori dei decanati della città di Milano e quindi passo subito e volentieri la parola averò l'incarignolo per entrare nel merito di questa parte della ricerca grazie Rosangela e buongiorno a tutti uno dei percorsi più ricchi e stimolanti della ricerca è culminato nella realizzazione di mappe di mappe urbane che sono appunto come si diceva l'esito di un approfondito lavoro interdisciplinare di analisi che ha permesso di restituire in forma sintetica e direi facilmente accessibile molteplici dati riferiti a uno spazio metropolitano complesso quello milanese che è al centro di recenti trasformazioni urbane, economiche e sociali ma partiamo subito con una di queste mappe questa è riferita al decanato centro storico visto che oggi siamo in questa sede ma per ciascun decanato abbiamo realizzato una mappa dedicata ora provo a raccontarvi cosa c'è dietro a questa mappa il percorso che ha portato alla sua realizzazione e questo racconto vi formerà un po' gli strumenti direi le lenti per cogliere la complessità e forse l'originalità delle mappe il nostro sforzo come si diceva è stato anche quello di ricostruire il contesto o meglio i contesti di questi territori e per far questo abbiamo deciso di considerare tre diverse dimensioni direi abbiamo avuto tre focus di analisi partiamo dal primo il nostro primo focus ha riguardato le caratteristiche della popolazione cioè cosa vuol dire la composizione demografica della popolazione residente nei 12 decanati milanesi e per far questo abbiamo utilizzato i dati statistici ufficiali del comune di Milano aggiornati al 2022 e questi dati ci hanno permesso di fotografare l'eterogenità della popolazione residente in questi 12 decanati della zona pastorale 1 eterogenità in che termini? proviamo a essere un po' precisi alcuni decanati sono molto ampi il decanato San Siro, Sempione, Vercellina accoglie il 15% dell'intera popolazione residente a Milano e giusto per farvi capire la proporzione il vicino decanato Baggio accoglie invece il 4,6% dei residenti milanesi dunque decisamente più piccolo e meno popoloso eterogenità anche in termini di fasce di età sebbene si rilevi una presenza di una popolazione per lo più concentrata nelle fasce di età avanzate le differenze tra i decanati sono davvero significativi se consideriamo il target 11-19 anni che è il target della nostra ricerca emerge come per esempio ad Affori la percentuale di 11-19 anni raggiunge il 10% quindi direi una percentuale significativa in altri decanati Forlanini, Romana, Vittoria per esempio si fermano al 7,5% altro dato sappiamo che a Milano più della metà delle famiglie è composta da una sola persona questo è il dato complessivo su Milano ma anche qui ci sono importanti differenze tra i decanati per esempio Cittastudi, Lambrate, Venezia e Centro Storico hanno percentuali di famiglie composte da una sola persona quindi famiglie monopersonali che arrivano fino al 60% altro dato sulla composizione Milano è una città multietnica e multiculturale lo sappiamo non ci sorprende in Italia il fenomeno migratorio è un fenomeno strutturale e stabile e quindi a Milano sappiamo che un cittadino residente su 5 è straniero tuttavia le differenze tra decanati sono significative Affori incidenza di popolazione stranieri cioè di cittadini stranieri sulla popolazione residente in quel decanato è superiore al 30% ci spostiamo nel centro storico l'incidenza è inferiore al 13% la media comunale è del 20% per esempio poi facciamo degli esempi concreti i filippini risiedono per lo più nel decanato Cittastudi, Lambrate, Venezia nel centro storico perché in quest'area ci sono famiglie con un reddito medio-alto che sono in grado di assumere lavoratori domestici per esempio dunque la presenza di alcune comunità è legata non solo ai network ma anche alle logiche e alle dinamiche del mercato del lavoro vediamo invece la comunità cinese i cinesi sono distribuiti in maniera estremamente eterogenea sul territorio ma vediamo delle concentrazioni molto elevate ad Affori e a Cagnola Galaratese Quartogiaro perché questo focus sui contesti queste caratteristiche della popolazione hanno un impatto molto importante sulle questioni educative di cui stiamo dibattendo oggi ho detto che abbiamo considerato tre dimensioni passiamo alla seconda dimensione questa seconda dimensione riguarda il territorio le caratteristiche urbane quindi cosa abbiamo fatto abbiamo considerato ecco qui i colori non si vedono bene comunque abbiamo considerato le aree di residenza urbana indicate in rosa poi abbiamo indicato sulle mappe le aree a prevalenza ERP edilizia residenziale pubblica abbiamo mappato la presenza di scuole pubbliche scuole paritarie i luoghi di culto come indicati nel piano per le attrezzature religiose del PGT di Milano e perché questa dimensione urbana è importante quando parliamo di questioni educative perché Milano e lo sappiamo bene accanto a aree di recente sviluppo accanto a veri e propri quartieri di lusso vede delle zone più deprivate delle zone marcate da uno svantaggio socio-economico nelle quali vivono famiglie in situazioni di povertà multidimensionale e questo è stato messo bene in evidenza proprio da una recente pubblicazione curata da Caritas e da FOM essere chiesa di frontiera ecco tale povertà non interessa perché poi va a colpire anche la possibilità per i più giovani di fruire delle attività educative e ricreative dunque la seconda dimensione è questa quella relativa allo spazio urbano caratteristiche dello spazio urbano terza dimensione come sono distribuite queste offerte educative ci siamo concentrate non soltanto sulla presenza di oratori per i quali ovviamente esiste un dettagliato elenco ma ci siamo concentrati anche sull'offerta proveniente dal settore pubblico dal privato profit dal privato no profit e dagli scout bene di tutto questo non esiste un elenco non esiste un database quindi questa è stata davvero una sfida che cosa abbiamo fatto per rispondere a questa sfida abbiamo provato a fare una mappatura su web una mappatura online dandoci alcuni criteri proviamo a mappare quegli enti che offrono attività educative ricreative rivolte agli 11-19 anni sul territorio di Milano e attive nel momento della mappatura quindi si è trattato ovviamente di una mappatura che probabilmente non è esaustiva però siamo riusciti a recuperare un lungo elenco di attività proposte nel territorio milanese dunque non solo nell'ambito degli oratori ma anche da pubblico privato profit non profit e scout questa era la terza dimensione dunque ora che sono stati forniti questi tre strumenti questi tre queste tre lenti abbiamo pensato di farvi vedere un confronto tra due decanati per farvi un po' intuire qual è l'esito uno degli esiti della ricerca poi nel volume che è accessibile online gratuitamente ovviamente avrete un'analisi dettagliata per ciascun decanato ora lasciatemi dare solo qualche spunto per farvi un po' dicevo intuire uno degli esiti di questo lavoro abbiamo scelto due decanati molto diversi fra loro affori e decanato centro storico sono decanati che hanno delle peculiarità demografiche e urbanistiche entro le quali provare a leggere l'offerta educativa e recreativa presente nei loro rispettivi territori quindi il nostro focus è l'offerta educativa e ricreativa ma abbiamo provato a leggerla e a commentarla tenendo conto di quelle dimensioni di cui vi dicevo caratteristiche della popolazione caratteristiche urbane quindi del territorio allora guardiamo decanato affori decanato affori e di qui decanato affori abbiamo detto anzi ecco qui abbiamo la percentuale degli 11-19 anni in quel decanato 8,0% nel decanato centro storico 8,5 quindi in realtà sotto questo aspetto non sono molto differenti su cosa sono differenti beh nel decanato affori il 30% dicevamo dei cittadini stranieri dei cittadini residenti e straniero in particolare un minore su tre è di origine straniera pensiamo all'impatto che ciò può avere anche in termini di proposte obiettivi specificità educative nel decanato al centro abbiamo visto che la presenza appunto di adolescenti quindi stiamo parlando del target 11-19 anni è comunque significativa ma la presenza per esempio di stranieri dicevo non arriva al 13% per quanto riguarda gli aspetti urbanistici invece a colpo d'occhio potete vedere che le aree rosa che sono le aree residenziali sono decisamente meno numerose rispetto al decanato centro tra le aree residenziali in particolare nel decanato affori vediamo diverse aree di edilizia residenziale pubblica sono quelle che hanno una specie di reticolato ora probabilmente non lo vedete comunque nel volume si vede bene ci sono delle aree di edilizia residenziale pubblica decisamente quasi assenti nel decanato centro storico in particolare poi nel decanato affori abbiamo numerose aree a prevalenza produttiva e terziario dunque proviamo alla luce di questi dati di contesto a vedere quali sono qual è la distribuzione delle proposte educative e ricreative beh se consideriamo il decanato affori tutte le proposte educative ricreative ora mi spiace non lo vedete qui c'è la leggenda con tutte le proposte indicate e mappate si concentrano nell'area a nord e del centro del decanato affori l'area sud rimane praticamente scoperta ma in quell'area ci sono degli oratori che vanno a coprire quel vuoto di proposte e questo lo riprenderò dopo e capiremo l'importanza di questa osservazione nel decanato centro storico nel quale sappiamo appunto che il livello di benessere è medio elevato troviamo invece una concentrazione significativa delle proposte provenienti dal pubblico privato profit non profit eccetera ed in particolare nel decanato centro storico si segnala una prevalenza di iniziative provenienti dal privato palestre piscine scuole di teatro ok vediamo quindi e dopo lo riprenderò un'associazione tra il livello di benessere della popolazione e una ricchezza di proposte educative e ricreative dicevo questo era solo un rapido esempio per farvi un po' intuire il senso di quelle dimensioni analizzate e perché sono così importanti quando studiamo le proposte educative di un territorio dunque l'analisi complessiva dei dodici decanati milanesi ha messo in evidenza come effettivamente i dodici decanati nel complesso si caratterizzino per una variegata offerta in termini di proposte educative e ricreative vediamo la presenza di numerosi centri di aggregazione giovanile centri di aggregazione multifunzionali biblioteche scuole di teatro piscine palestre associazioni cooperative e sociali oltre ovviamente a una presenza fitta e capillare di oratori che adesso vedremo più nel dettaglio ma tale offerta è distribuita in maniera disomogenea cosa vuol dire che alcuni territori quelli maggiormente svantaggiati dal punto di vista socio-economico Bovisasca nel decanato Affori Gallaratese nel decanato Cagnola Gallaratese Quartogiaro e anche alcuni quartieri di nuovo sviluppo il quartiere residenziale di Cascina Merlata nel decanato Cagnola Gallaratese Quartogiaro ecco le zone più private dal punto di vista socio-economico i quartieri di nuovo sviluppo sono più scoperte rispetto ad altri territori con poche proposte rivolte ai più giovani dunque i nuovi quartieri anche molto popolosi come Cascina Merlata e i nuovi complessi residenziali per esempio il nuovo complesso residenziale nel quartiere Figino del decanato Baggio rischiano di rimanere esclusi dall'offerta educativa e ricreativa l'analisi dunque mette in luce che esiste questa associazione tra presenze di offerte che possono essere culturali ricreative educative e livello di benessere della popolazione ed è qui che entra in gioco il ruolo centrale degli oratori proviamo a capire perché questa mappa è la mappa di quella che ci piace di chiamare la città dell'oratorio a dieci minuti allora questi questi cerchietti sono delle curve isocrone a dieci minuti 800 metri di distanza cosa vuol dire al centro di ciascuno di questi cerchi c'è un oratorio quindi al centro c'è un oratorio e la distanza circostante di un massimo di 800 metri a piedi quindi vuol dire scusate 800 metri quindi dieci minuti a piedi questa è la cartina complessiva della zona pastorale 1 12 decanati milanesi che cosa riusciamo a cogliere a colpo d'occhio che gli oratori coprono in maniera capillare l'intero comune di Milano offrendo quindi per quasi tutta la città un servizio di prossimità accessibile a pochi minuti a piedi sono proprio gli oratori a garantire una potenziale copertura diffusa del territorio milanese e in alcune aree della città rappresentano uno dei pochi centri di aggregazione giovanile rappresentano in alcuni punti della città l'unico punto di riferimento l'unico punto di inclusione sociale ecco questo è un dato che è emerso in maniera evidente dalla nostra ricerca e che ci pare particolarmente interessante dunque gli oratori in taluni casi rappresentano l'unico spazio di aggregazione giovanile e accanto a questa osservazione nella seconda parte della ricerca più qualitativa anzi nella parte quantitativa è emersa anche quanto gli oratori si caratterizzino come contesti aperti con ampia disponibilità di orario flessibilità di utilizzo particolare nei pomeriggi e nei fine settimana ecco questo questa mappa della città dell'oratorio a dieci minuti a piedi ci pare davvero molto importante per capire il ruolo degli oratori all'interno della città di Milano e la capacità di coprire tutto il territorio in maniera affitta lascio la parola alla mia collega Rosangela Lodigiani grazie grazie giustamente consideriamo anche che stiamo osservando con questa ricerca le proposte educativo ricreative rivolte ai giovani 11-19 anni e dunque in particolare quanto meno fino ai 18 anni i giovani che si muovono tendenzialmente a piedi quindi questa prossimità questa vicinanza dello spazio dell'oratorio è davvero rilevante i ragazzi si muovono escono di casa e in pochi minuti a piedi possono arrivare in un oratorio che accoglie con le porte aperte prima si diceva di questo aspetto che cosa accade dentro gli oratori questa è un po' la seconda parte della ricerca dove si sono integrate una survey online un questionario che abbiamo inviato a tutti i 146 oratori della zona pastorale 1 e poi dei focus group con esperti con giovani e interviste in profondità quindi quello che vi racconto adesso fa parte più di questo sguardo interno dentro gli oratori dove siamo andati a cercare di rispondere a quelle domande di cui riferivo all'inizio e cioè quali bisogni i ragazzi portano in un oratorio e come qui vi si dà risposta dunque è una una lettura che possiamo definire situata uno sguardo appunto interno e che cosa emerge innanzitutto emerge che negli oratori c'è una presenza di giovani che è caratterizzata dal confronto tra diverse generazioni tra diversi generi ragazzi e ragazze e diverse appartenenze culturali origini etniche talvolta anche diverse fedi religiose cioè è un contesto davvero plurale ed è un contesto plurale dentro cui saper valorizzare riconoscere e valorizzare le diversità è una delle sfide più sentite prima si diceva della presenza di ragazzi di origine straniera di come diversamente è distribuita nelle zone della città e quindi questa si riflette anche in modo eterogeneo negli oratori in alcuni oratori questa è una presenza davvero molto molto significativa in altri lo è meno ma possiamo dire che la mixité ecco è un tratto ormai trasversale delle presenze dei giovani negli oratori ed è una presenza che si segnala per l'essere sempre più attiva con il crescere dell'età e questo è un aspetto un po' paradossale per certi aspetti che vale la pena di sottolineare perché in realtà i ragazzi più giovani sono più numerosi soprattutto quelli legati all'iniziazione cristiana e è più difficile più difficile per gli oratori trattenere gli adolescenti e i giovani quindi quando diventano più grandi è più facile che lasciano l'oratorio e vadano a trovare contesti di appartenenza anche altrove ma quelli che restano sono quelli più attivi cioè quelli che partecipano in modo più significativo dentro alle proposte che l'oratorio offre e un'altra sottolineatura volevo richiamare importante ancora scusami sulla slide precedente è legata dicevo prima alla valorizzazione delle diversità uno degli elementi che è emerso è di come gli oratori siano anche un contesto aperto a ragazzi e ragazze con bisogni speciali bisogni educativi speciali e con disabilità è una sfida quella dell'inclusione della capacità di rispondere con competenza alle esigenze che questi ragazzi portano in oratorio ma come veniva ben sottolineato prima è anche vero che l'oratorio proprio per il modo in cui si pone e per la informalità anche della proposta è spesso anche un luogo in cui la difficoltà la disabilità il bisogno speciale può in qualche modo essere lasciato un po' sullo sfondo ci si trova in contesti di inclusione che sono aperti e che non mettono in risalto eventuali difficoltà come magari in altri contesti che sono più orientati alla valutazione può accadere invece veniamo al tema delle proposte educative qui ho provato a fare una slide di sintesi per provare a mettere a confronto da una parte le proposte come vengono descritte dai referenti che hanno partecipato all'indagine e che sono rivolte ai giovani e dall'altra come i giovani vivono queste proposte vivono i contesti oratoriani e dunque da una parte abbiamo l'indicazione di una serie di attività che provano ad accompagnare i ragazzi targettizzando questo termine è un po' brutto ma insomma focalizzando le proposte sulle diverse fasce d'età tipicamente la proposta oratoriana distingue i preadolescenti tra gli 11 e 14 anni gli adolescenti tra i 15 e i 17 e i giovani tra i 18 e i 19 anni ecco che gli oratori cercano di mirare su queste diverse fasce d'età le proposte poi naturalmente gli oratori sono anche tanto diversi dalla loro c'è un'autonomia ma insomma questi sono alcuni elementi che li accomunano e l'aspetto interessante è che il tentativo di far crescere con con i giovani anche le caratteristiche delle delle proposte delle proposte offerte e quindi se ai più giovani si offre tanto gioco libero si offre in particolare l'oratorio estivo si offre naturalmente un'opportunità di aggregazione ma soprattutto opportunità e percorsi di formazione cristiana per gli adolescenti a queste proposte si aggiunge l'opportunità e anche vorrei dire la responsabilità di seguire percorsi di formazione come animatori cioè quando i ragazzi crescono si prova ad ingaggiarli anche in compiti di responsabilità i ragazzi da parte loro ci hanno detto che è un aspetto molto importante in realtà del passaggio di crescita questo coinvolgimento più attivo che diventa ancora più evidente con i più grandi ancora per i quali in qualche caso alla formazione come animatori si aggiunge la formazione come educatori quindi con una competenza ancora più specifica e in queste proposte ovunque si prova a integrare le finalità pastorali di iniziazione cristiana di evangelizzazione con quelle di aggregazione e di crescita di accompagnamento alla crescita dei ragazzi e delle ragazze in modo integrale in cui si guarda la persona nella sua interezza e dunque fare l'oratorio attraverso queste proposte ha questo obiettivo queste finalità ma come vedono queste proposte i giovani come vivono queste proposte ecco per i giovani l'oratorio è un'esperienza identitaria questo è un aspetto che emerge dalle interviste dei focus group che abbiamo fatto e lo è sempre più con il crescere dell'età di nuovo dicevo prima con il crescere dell'età le presenze diminuiscono ma diventano presenze noi abbiamo detto un po' più ingaggiate e quindi presenze che mano a mano quando restano maturano un senso di appartenenza maggiore quindi se per i più giovani l'oratorio è il luogo del gioco dell'amicizia anche della protezione il luogo dove si va e ci si trova tra amici si incontrano persone di riferimento significative che aiutano anche a orientarsi a compiere scelte insomma un luogo in cui ci si sente anche al sicuro dove si cerca sicurezza per i più grandi diventa più evidente la ricerca di un'appartenenza elettiva il gruppo diventa più significativo il che implica anche che ci sono dinamiche di inclusione e esclusione che si possono fare più marcate quando l'appartenenza è più stretta e il gruppo si identifica in modo più chiaro ecco che lì c'è chi può sentirsi non parte e i ragazzi mettono a tema la questione del ricordarsi e riconoscersi come gruppo che vuole essere aperto però questo è un tema perché quanto più si diventa il gruppo acquisisce una dimensione identitaria forte tanto più appunto questa questione si pone e più si cresce più si cercano spazi di protagonismo di autonomia si ricerca nell'oratorio opportunità di esprimere se stessi e questo viene ancora più a maturazione con i giovani sia tra gli adolescenti ma ancora più tra i giovani prende un posto di rilievo la dimensione del servizio i giovani che frequentano l'oratorio enfatizzano come quello luogo in cui a questa età possono restituire quello che hanno ricevuto e quindi mettersi a servizio dei più piccoli come animatori appunto e come educatori e dove forse ci si trova anche meno l'oratorio lo si frequenta meno ma dove l'appartenenza identitaria rimane molto salda prima dicevo appunto di questa appartenenza situata e dove però si cerca ancora di più spazi di autonomia e di coportagonismo poi ci siamo chiesti siamo andati appunto a fondo nell'analizzare le proposte e i bisogni educativi portati dai giovani all'interno dell'oratorio e ci siamo chiesti che cosa è accaduto con la pandemia quali sfide sono emerse in questo tempo così difficile e se ci sono stati degli apprendimenti dei lasciati ed effettivamente è stato molto interessante perché abbiamo scoperto l'avevamo anche un po' sentito tutti credo anche attraverso il vissuto con le nostre esperienze sentito anche dai media che gli oratori hanno tenuto e sono riusciti a mantenere relazioni lo diceva bene prima Don Stefano la relazione con i ragazzi anche nel tempo più difficile della pandemia e l'hanno fatto anche sperimentando linguaggi nuovi non tutti e non tutti allo stesso modo alcuni oratori sono riusciti meglio altri meno anche utilizzando le nuove tecnologie insomma per trovare modi per restare in relazione quindi nuovi linguaggi nuove metodologie soprattutto si è imparato e si è stati costretti e poi si è imparato a lavorare a piccoli gruppi le bolle ci si è trovati a prestare ascolto più personalizzato un'attenzione più specifica alle fragilità e ai bisogni dei ragazzi e dunque un'occasione ecco la pandemia come occasione come occasione per apprendere ma che si porta dietro anche alcuni lasciti positivi e negativi alcune ambivalenze che sono emerse anche nel World Cafe con gli operatori pastorali e cioè da una parte appunto questa attenzione più focalizzata sulla persona la capacità di prestare ascolto alle fragilità in alcuni oratori sono rimasti aperti degli sportelli e dei momenti di attenzione specifica appunto al singolo un'attenzione per il lavoro con i piccoli gruppi ma anche la fatica del riaprire una volta che la pandemia ha superato la fase più acuta ad un lavoro che mette insieme invece diciamo grandi numeri rispetto alla pandemia poi su grandi numeri ritorno perché dico ambivalenze perché questi apprendimenti si sono anche hanno trovato l'infa in una maggior gratificazione che l'intervento con i piccoli gruppi ha dato anche agli operatori pastorali un riscontro positivo una vicinanza con i giovani che seguivano le proposte ma questo ha portato qualche rischio qualche oratorio lo ha sottolineato con molta chiarezza cioè il rischio di essersi abituati a lavorare con i piccoli gruppi e con i più vicini e invece di aver perso i più lontani quelli che con la pandemia sono rimasti indietro quelli che magari già erano un po' ai bordi del campo e con l'oratorio non così aperto per le ragioni che sappiamo dell'emergenza sanitaria non hanno trovato la porta d'accesso cioè non sono riusciti a entrare e quindi questa ambivalenza questo desiderio di mettere a frutto ciò che si è appreso ma dall'altra parte anche un po' una fatica della riapertura un rischio di un ripiegamento e un rischio anche di voler tornare a come era prima della pandemia ma non sapendo bene in realtà che cosa questo voglia dire perché il prima non c'è più il prima oggi si rivela illusorio si rivela anche può fare anche un po' paura appunto a riaprire i grandi numeri e quindi la sfida è proprio questa e questo ci ha portato a riflettere su alcune polarità le abbiamo chiamate polarità tensioni trade off e ricomposizioni cioè ci ha portato a riflettere e a puntare la luce su come i contesti dell'oratorio si siano trovati anche a seguito della pandemia ma in realtà ad affrontare delle questioni delle sfide che erano già presenti anche prima che la pandemia ha acutizzato che la pandemia ha per certi aspetti più portato in evidenza appunto sono contesti nei quali si sperimentano anche delle contraddizioni delle tensioni tra le finalità che l'oratorio ha con la sua proposta educativa e ricreativa qui ho provato a rappresentare nel grafico che appare a sinistra alcune di queste polarità che hanno a che fare con il modo in cui i giovani stanno dentro gli oratori e cercano risposta ai propri bisogni allora sull'asse verticale da una parte un grande desiderio di autonomia di poter fare di poter fare da sé di poter fruire di spazi liberi dentro i quali dicono sappiamo cosa fare come fare e dall'altra però un grande desiderio di accompagnamento di trovare figure di riferimento che aiutino nella fase di crescita non tanto dicevano i ragazzi nel tracciare la strada ma nell'essere accanto mentre ci si fanno le domande importanti la pandemia è stato un momento che ha messo in evidenza l'esigenza dei ragazzi di ragionare di pensare sulle questioni importanti la vita la morte il dolore la sofferenza e questo sostengono e riportano come un elemento importante quindi autonomia e accompagnamento insieme una polarità una tensione ma non una contraddizione e dall'altra parte sull'asse orizzontale l'esigenza di trovare in oratorio uno spazio di formazione di formazione cristiana di formazione spirituale di riflessività appunto di risposta alle domande importanti che i giovani si fanno nel loro percorso di crescita ma dall'altra anche il bisogno di potersi esprimere attraverso tante attività di poter fruire di opportunità di spazi e di attività ricreative e dove sperimentarsi anche come dicevo prima nel servizio quindi dove esprimere se stessi pienamente e se queste che sono legate più alla postura dei giovani dentro agli oratori sono più polarità che capiamo che non hanno vere contraddizioni diverso è se guardiamo l'oratorio nella sua proposta educativa dove le interviste e i riscontri raccolti con gli operatori pastorali mettono più in evidenza come in alcuni casi invece ci possono essere delle tensioni che rischiano di essere viste come vere contraddizioni come il tema della valorizzazione della diversità e dall'altra l'avere la capacità di mantenere un profilo identitario molto chiaro e il rischio la tensione il timore di vedere che questa polarità invece possa da una parte diventare elemento appunto di contraddizione dove l'apertura l'accoglienza le diversità può diventare qualcosa che possa anacquare l'identità della proposta e così il tema della proposta degli oratori definita da tanti tanti intervistati una proposta bassa soglia appunto con la proposta aperta davvero davvero a tutti che può essere vista come in contrapposizione invece con una presenza che richiede impegno che richiede di seguire con chiarezza la proposta che viene fatta ecco di nuovo qui la paura il timore che questi elementi possano essere in contrapposizione ma anche la sottolineatura di alcuni del fatto che non è davvero vera contrapposizione la ricomposizione è possibile perché la proposta cristiana è una proposta che nell'essere aperta dice della sua identità del suo essere capace di essere inclusivo e quindi non è vera contrapposizione si tratta di trovare i modi per la ricomposizione allora qui ho riportato in sintesi un po' usando le parole chiave dei giovani quella che abbiamo chiamato la proposta dell'oratorio delle 4C un po' una così passatemi il termine una piccola ricetta degli elementi che non devono mancare per favorire quella ricomposizione l'oratorio che sa essere comunità inclusiva dove appunto le diversità possono essere valorizzate l'oratorio che è luogo di convivialità dove ci si sperimenta e si sta insieme informalmente gli spazi dell'oratorio e le proposte non devono essere per forza strutturate possono essere proprio quel luogo dove ci si incontra e si cresce insieme anche al di là di momenti organizzati in modo specifico e poi la condivisione il vivere insieme adesso le risultanze della ricerca sono davvero molto ricche abbiamo fatto alcune scelte ma un tema che emerge come interessante è per esempio l'apprezzamento da parte dei giovani delle esperienze di condivisione di vita comune anche dentro gli spazi dell'oratorio quindi condivisione e coprotagonismo è importante quel co cioè i giovani cercano spazi di autonomia di espressione di sé ma non cercano un'autonomia che li fa essere isolati dal resto del mondo cioè cercano anche l'accompagnamento lo dicevo prima e quindi coprotagonismo può voler dire coprogettazione può voler dire essere coinvolti ingaggiati nell'essere protagonisti della costruzione di risposte ai loro bisogni ma non vogliono essere lasciati soli e questo mi sembra un dato importante un'ultima notazione poi vado velocissima alle conclusioni l'oratorio non è un'isola l'abbiamo visto molto bene qualche volta è un po' solo nei contesti territoriali ma non è un'isola attorno ci sono tanti contesti educativi e ricreativi e sempre più l'oratorio ha chiamato lavorare in rete anche per via di finanziamenti che chiedono di costruire rete di finanziamenti che sono che vanno che passano attraverso i bandi pubblici privati insomma che chiedono però di lavorare assieme ad altri e però se lavorare in rete è diventato un po' un mantra e anche un po' un must di questo momento diciamo che non basta la parola lavorare in rete è difficile lavorare in rete richiede competenza richiede continuità di impegno e qui va anche detto che il lavoro sui bandi rischia di attivare reti molto belle e molto importanti che però vivono il tempo del progetto vivono il tempo del bando e non sempre sono in grado di continuare dopo che il bando ha cessato di erogare i propri finanziamenti e quindi spesso l'oratorio si trova poi da solo a presidiare il territorio dove il progetto è stato finanziato ma dove poi vengono a mancare altre risorse quindi diciamo c'è l'esigenza proprio di crescere da questo punto di vista e al di là del lavorare in rete c'è l'esigenza di sentirsi parte e di riuscire a costruire insieme agli altri attori una comunità educante e questo non vuol dire semplicemente fare rete ma vuol dire stringere un patto educativo vuol dire trovare consonanza rispetto alle esigenze alla lettura dei bisogni e alle esigenze di proposte che per i giovani vale la pena di mettere in campo e la sfida è quella di allargare lo sguardo per gli oratori attorno a sé alle altre realtà di allargare e stringere legami con le istituzioni con i servizi del territorio ma consentitemi anche questa piccola sottolineatura anche di volgere lo sguardo all'interno perché gli oratori al loro interno vivono e hanno tanti carismi e non sempre è facile che questi carismi tra loro insieme riescono a produrre una proposta condivisa allora arrivo velocemente alla conclusione quello che abbiamo trovato attraverso questa ricerca è una realtà molto vivace di luce e ombre non stiamo tratteggiando diciamo così un dipinto senza criticità senza fatiche senza problematiche però ci siamo sentiti in conclusione di rubare lo slogan dell'anno oratoriano della diocesi a Stefano ci ha concesso ci ha concesso questa cosa allora lo slogan l'oratorio pieno di vita perché ci è sembrato adatto a dire che l'oratorio è comunque un contesto effervescente poi lo ribadisco lo ripeto in alcuni contesti di più in altri di meno in altri di meno ma è un luogo di eccedenza quando qualcosa si muove ed è vitale ecco qualcosa qualcosa produce e ha dal suo quella la forza di quel radicamento territoriale di cui abbiamo parlato prima qui c'è io credo l'elemento distintivo della proposta oratoriana questo stare situato dentro i territori certo poi si lavora nel piccolo con magari con piccoli gruppi si fatica a raggiungere i grandi numeri ma è un segno è un segno con le porte aperte e quindi una grande opportunità in realtà in una città frammentata come come Milano e quindi l'oratorio come spazio vivo che che abita il territorio che che abita il territorio e che lo rende un luogo aperto alle possibilità diciamo forse la cosa che più l'elemento che più emerge poi alla fine anche dalle riflessioni raccolte dalle testimonianze raccolte anche questo desiderio di continuare a investire nell'oratorio per far sì che possa sviluppare le potenzialità che ha talvolta restano inespresse ma queste potenzialità ci sono e dunque vi ringraziamo grazie per l'attenzione questo è il libro che trovate scaricabile direttamente online è gratuito e quindi potete tutti leggerlo grazie di tanti di voi qui presenti di disponibilità banalmente anche a rispondere delle domande ma anche a riflettere a partire dalle domande che venivano poste come dicevo in apertura questo è un lavoro che mancava da tanti anni magari non è completo magari ha bisogno di ulteriori approfondimenti ma sicuramente ha il valore di offrire uno sguardo una fotografia della realtà degli oratori della città di Milano utile soprattutto a chi poi vive negli oratori e lavora negli oratori non soltanto alla componente anche più ampia di chi contribuisce al lavoro degli oratori perché tante volte noi abbiamo un po' l'idea mi permetto di dire che l'oratorio sia uguale dappertutto dalla Valsassina a Rogoredo sicuramente ci sono delle delle situazioni ci sono delle caratteristiche simili questo è anche un punto di forza ma ogni contesto che abitiamo determina la storia di quell'oratorio ed è bene che chi opera in una situazione così complessa e anche affascinante avvincente come quella di Milano oggi abbia la possibilità di documentarsi di comprendere qual è la situazione in questa evoluzione e poi sicuramente e chiudo il fatto che in una città che corre a ritmi diversi l'oratorio sia così presente così ramificato anche in quartieri di grande trasformazione e soprattutto ci accorgiamo che manchi come presidio anche di comunità in tanti quartieri che hanno cominciato a costruirsi oggi ma forse si sta mettendo a tema in modo sufficiente come poi la gente che abita lì abbia bisogno anche di incontrarsi di stare insieme non semplicemente di porsi il problema di dove andare a fare una spesa domani ecco questa è una questione che noi possiamo mettere a tema è qualcosa su cui possiamo dare un contributo perché non è sufficiente avere una casa dove abitare ma è necessario anche avere un luogo dove pregare uno spazio dove potersi incontrare dove stabilire relazioni questo è importante la ricerca ci sta dicendo che la città non riesce in modo esaustivo a mettere a tema questa questione perché probabilmente tutti i soggetti non si parlano in maniera adeguata ecco noi siamo qui oggi anche per dire che c'è un desiderio di dare continuità a un lavoro che si sta facendo ma anche un contributo al fatto che laddove la città sta crescendo c'è bisogno dell'oratorio ma non perché noi vogliamo mettere la bandierina ma perché siamo consapevoli di poter offrire quel pieno di vita così chiudo con ritorno Mario sei contento ritorno sul nostro che è indispensabile per la vita buona di tutti qui ciao Grazie a tutti